Ci vediamo il trailer di Dungeons & Dragons Honor Among Thieves. Ce l'ha i sottotitoli in italiano? Spero di sì. Bella la CGI. Con quella cosa che succede sempre su D&D. Esattamente, Harlock. Allora, uno è un bardo, palesemente, perché ho visto un chitarrino. Ah, è questa la scena veramente che ha dato così tanto fastidio. Cioè, è stato veramente questo il problema, il fatto che il druido si trasformasse in un owlbear, perché De'Manuale non può. Ma sti cazzi! Ok, bro, puoi, esatto. Questa è un mimic. Siamo pronti. Bella questa cosa. Beh, dai, però... Dai, poteva essere molto peggio. Cioè, in realtà il trailer mi ha dato una bella vibes. È molto carino, perché ti dà quelle sensazioni di cazzaggine che ci stanno anche a sessione. Non capisco perché la gente se l'è presa per l' owlbear. Cioè, poi non so se magari proprio ufficialmente hanno detto che il film è in questa ambientazione, con queste regole. Non credo. Però sti cazzi, cioè, magari quella si può trasformare in un owlbear, o in italiano in un orso gufo. Sembra un po' naviata per il culo, però è quello, effettivamente. Cioè, sti cazzi. Cioè, magari c'ha qualche peculiarità per cui può farlo. Questa cosa ha detto a Dying Tail, pensa te. Di che cosa? Che mi son perso. Cioè, non è quello... Il problema sarebbe stato se creavano un qualcosa che andava a prendere per il culo o a dare un'immagine errata di D&D. Però col fatto che è ufficiale, proprio... Cioè, non è lo stronzo che ha preso i diritti. No, è una cosa ufficiale. Hanno fatto in certo modo, hanno strecchiolino alle varie cose. Il mimic bellissimo come l'hanno fatto. Tra l'altro proprio preso uno a uno dal manuale nell'aspetto. Boh, delle vibes. Ah! Eh no, ma quelle sono belli perché se... Non è fatto a cazzo. C'è sempre la cosa dell'essere cazzoni per fare il divertimento. Ma qua è bella perché durante la sessione tra amici, giustamente, io faccio i piani. Eh, ma se abbiamo già il piano, a che cazzo servi? È perché io in caso fallisce il piano, faccio un altro piano. Quindi fai i piani che falliscono, merda. Cioè, c'è quella cosa così che è molto bella. È molto di casa. Poi dipende come lo strutturano. Cioè, solitamente sti film tendono molto a far vedere soltanto gli addominali. Cioè, non ti fanno vedere tutto, non strutturano qualcosa per bene. Ti fanno vedere gli addominali e basta. Come è stato anche per alcuni... Per il film di Warcraft, mi pare. Cioè, è bellissimo la storia perché è pure bello come film. Però era tipo per flexare il... E' stato a vedere gli orchi di Warcraft in 3D. Ecco qua, cioè, però non facciano la stessa cosa. Ho stato a vedere l'Aulbear, l'ho stato a vedere il Mimic, la magia, il drago. Perché hanno fatto vedere tutte cose da manuale base. Hanno fatto vedere pure quell'incantesimo, mi sa che era Thunderwave, palesemente. E rimane sempre la solita fatto. Che secondo me questa cosa l'hanno fatta apposta. Perché succede come su TikTok. Perché io non so quanti di voi qui lo sanno. Ma su TikTok si usa una tecnica bastarda. Che è efficace. Non so se vi sono mai capitati i video del cazzo. Quelli dei cinesi che fanno... Usano 18 milaggi e getti loro. E poi magari in un frame mettono qualcosa di sbagliatissimo. Cioè, tipo che non rompono un uovo. Lasciano un pelo. Lasciano un capello. Fanno proprio apposta ste cose. Poi dovete sapere che quella cosa viene fatta apposta. Perché così la gente nei commenti commenta su quella cosa. Commenta sul fatto che ci sia quell'errore, quella cosa. Ma l'ho visto solo io, l'uovo rotto. Sì, bro, guarda. Me l'hanno messo qua. Non l'avevo visto che l'uovo che aveva lasciato la signorina. E vanno virali perché usano queste tattiche. Secondo me l'hanno fatto lo stesso su questo film. Hanno detto, troviamo qualche cosa per triggerare la gente. Hanno messo l'aulbear e ha funzionato. Infatti ne stanno a parlare tutti. Perché io non l'avevo mai... Non sapevo neanche dove uscire. Ma era arrivata prima l'informazione che ci fosse sto aulbear che c'è doveva sta. Per dire, ha funzionato. La gente comincia a lamentarsi di cose sbagliate. Però bellino. Bellino. Mi ha aippato molto di più rispetto a quello di Gollum. Quello di Gollum mi ci ha lasciato veramente secco. Secondo me è una stronzata lamentarsi di... Ma sì, ma sti cazzi. Ma poi se tra l'altro la gente che dice... Eh, dal manuale. Tutti sti cazzo di rule lawyer della merda. Ma sti cazzi. Ma quante volte è successo su D&D? Che è una cosa che non stava nelle regole e veniva fatta. Magari semplicemente c'è dell'ombriù. Magari andremo a vedere il film. Loro effettivamente non sono in un mondo ma sono dei giocatori. O magari alla fine... Alla fine del film c'è il plot twist di loro che escono e magari sono un gruppo di giocatori al tavolo. E quindi c'era l'ombriù. Che figata cazzo. Ti dico, io ho fatto una one shot con un altro amico mio. Statistiche rielaborate. Trendo spunto dal manuale. Ci sta. Questa è una cosa che consiglio sempre tantissimo. Cioè, soprattutto le prime volte che giocate. Non usatelo tanto il manuale. Perché io capisco... Cioè, è come dire. Io voglio provare per la prima volta D&D. Se tu prendi il manuale del giocatore, che sono tipo 300 pagine, ma non mi ricordo. Tu prendi il manuale del giocatore e glielo sbatti davanti al tizio. Quello ti guarda e ti fa... Vabbè, se vediamo alla prossima. Perché, cioè, se tu c'hai voglia di provare per la prima volta un gioco, non c'hai voglia di mettere a leggere 300 pagine. Infatti io consiglio sempre di iniziare con... Leggetevi il regolamento base. Cioè, come funziona proprio la base. Fate due disegni, fate due schede del cazzo e tiratevi le botte sui denti. Metteteci quel punto di roleplay. Una one shottina. Vampire era solo giocatore, non master perché è un casino. Ah, era solo giocatore. Sì, perché lasciamo volverde che pure Vampire... Io mi ricordo che era su Intail Gianandrea Mouya. Aveva portato una campagna di vampiri. La gente gli ha rotto i coglioni incredibili sull'ambientazione. Che io... Madonna mia, che fastidio quando succede così. Gianandrea, ma la Gianandrea è un must protect. Io lo amo quel cazzo di uomo. Come doppia e come ruola. Cioè, gli hanno rotto i coglioni in una maniera. È una cosa che mi... Cioè, io lo capisco. Il essere rule lawyer. Cioè, tu non puoi dire sì a qualsiasi cosa da master. Cioè, non puoi dire ti tiro un pugno e faccio esplodere il sole. No. Però rompere il cazzo sul capezzolo è una roba veramente che mi dà l'urto proprio. Ha doppiato Carty Nelson e grazie a lui ho shoppato persone reali. Sì, no, che lui sia un doppiatore professionista lo sapevo. Infatti, io in Intale lo amo lui. Anzi, all'epoca della prima stagione che molte persone si erano lamentate del come ruolava Galgit. A me un po' mi è dispiaciuto. Capisco il cambio di mood. Perché molte volte in sessione ci sta il sopprimere un po' il proprio personaggio per il benestare della campagna. Per il benestare del party. Perché sì, magari... Cioè, tra loro effettivamente lo sbotto... Io so che tu stai sbottando per finta. E tu sai che stai sbottando per finta. Però si vanno a creare quelle cariche, quelle energie un po' bruttine che non c'è stai. È giusto. Per chi non lo sapesse, D&D delle prime edizioni, tu non c'era il roleplay. Era proprio dungeon crawling. Tu creavi una scheda, entravi nel dungeon, se scioglieva il personaggio, riuscivi fuori, o rifacevi, rientravi. Poi dopo un tot sono usciti dal dungeon e hanno fatto... Oh, roleplay! Perché prima non era così. Guarda, se siete alle prime armi con D&D, non statevi a leggere tutte le regole. Prendete una one shot di livello basso che vi ispira. Anche perché ricordo sempre che il master non è che nasce imparato. Per diventare master, un buon master, ci vuole tempo. Perché il master deve tenere sott'occhio un sacco, un sacco di cose. Troppe veramente. Perché molte volte non ci pensano le persone, ma... Poveri master! Anche là, cioè... Voi immaginatevi che dovete starvi a gestire X giocatori, X nemici, in un'ambientazione in cui devono succedere determinate cose, determinati eventi, determinate discussioni. Tra l'altro lo fai anche in live. Sempre tipo per tornare a Gianandrea. Lo fai in live, quindi c'hai la regia, i microfoni. È un puttanaio all'ennesima potenza. Tu poi c'hai un figlio di puttana che ti fa... Ah no, ma perché il vampiro non può farla quella cosa, a quel livello, in quella data, cazzo, di ora del giorno? Ma sti cazzi! Sono io il master, Dio Cristo! Se i vampiri adesso possono camminare sotto al sole, ci camminano... Vabbè, a parte che i vampiri... Non so, perché non sono molto esperto di vampiri. Però si è capita l'antifona, cazzo. Che tanto era pure il motivo per cui lui poi era molto restio a fare la mini campagna sullo starter set. E poi ci ha regalato una campagna bellissima. Lo starter set di Intail, masterato da Gianandrea. È una madonna! È una madonna! E tra l'altro lì ho visto anche un altro giocatore, che adesso non mi ricordo come si chiama, che era anche lui un master, che faceva un paladino legale buono. Che faceva un paladino legale buono, mi pare. E lo ha ruolato di Cristo, perché la gente... I legali buoni li ruola veramente col culo. Forse come si chiama? Manfredi, forse. Ruolava un dragonide... Sì, un dragonide paladino legale buono. Di Bahamut. Veramente bellissimo come l'ha ruolato. Perché molti tendono a ruolare i legali buoni. Cioè, non tanto i legali buoni, ma proprio tendono a ruolare attraverso l'allineamento. Ma l'allineamento non è... Non è la madonna. Tu non ruoli la personalità e il tuo personaggio attraverso l'allineamento. Perché l'allineamento è semplicemente una linea guida. Ma neanche è un'approssimazione proprio... Cioè, secondo voi lo spettro umano puoi racchiuderlo in nove allineamenti? Non credo. Non so come spiegarlo. Però, molte volte le persone fanno l'errore di ragionare attraverso i fogli e non attraverso il cervello. Cioè, esempio. Tu sei un legale buono. Sì, ma tu non hai... A meno che c'è qualche roba di trama. Io sto dicendo nell'assoluto. Tu non hai un fottuto bias celebrale. Finché non è che il tuo Dio che te ordina per forza perché altrimenti te sbrego. Non è che se il tuo compagno di parti, per sbaglio, ha usato un oggetto oscuro, tu devi seccarlo di legnate. Sei un essere vivente che ragiona e fa. Ah, cazzo, è successa questa cosa. Come posso affrontarla se poi si arriva alle mazzate e un altro conto? Ma ci sta gente che ragiona non a scala di grigi. Ragiona in fottuto bianco e nero. Insomma, la gente tende a ragionare nei personaggi di D&D molto in bianco e nero ed è una cosa che mi dà fastidissimo. E Manfredi, nello starter set di Intel, ha veramente ruolato di Cristo un personaggio legale buono. Cioè, quello era veramente un bel modo di ruolare un personaggio. Ma hai giocato? Dovessi provare, perché è molto molto... Poi dipende se non ti piace nel tuo discorso, però è molto molto bello. Inizia molto semplice, ma è una roba che poi può diventare veramente enorme. Io e i miei amici sono due anni ormai che facciamo una campagna, che continuiamo una campagna. Nel dubbio D&D gioco overrated. No, in realtà D&D gioco underrated, perché D&D... Ma D&D, il gioco di ruolo è meglio della cazzo di... dello psicologo, eh. Avevo degli amici infognatissimi di spaventare la cosa. Quello ci sta. Quello è un altro... Quello è l'esagerare, perché... Prendo anch'io molte volte a vedere delle persone che sembrano dei fottuti maniaci sessuali. Che forzano le persone ad entrare in qualcosa. La gente non ha capito che finché una persona non entrerà di propria spontanea volontà, o sia in un mondo, nel vedere una serie di V, leggi un man... Qualsiasi cazzo di cosa. Tu non ce la schiodi. Anzi, se tu forzi una persona ad entrare in qualcosa in cui non è sicura, gliela mandi sul cazzo. Non forzate mai compagni, amici o cose a giocare a qualcosa a cui non gli va di giocare. Perché tanto se non fate soltanto il contrario, gliela fate andare sul cazzo. Però ti consiglio di provarlo, perché è veramente un bel gioco. Poi se ti piacciono i GDR cartacei, perché se non ti piacciono quelli la vedo un po' difficile. Ah sì, ma magari vi fate una one-shot, una mini campagna di una sessione. Ve la fate a livello 3. Anche perché poi quando entri nel mondo ti infugni. Mi piace Lovecraft? Sì, mi piace tantissimo Darkest Dungeon e anche in D&D vero e proprio. Non mi ricordo adesso come cazzo si chiama il manuale di Lovecraft. Che tanto pure Intel ci sta facendo Elevator of Madness. In Elevator of Madness sì, ci stanno anche, ci stanno. Teresnas, Kuro Lili, Luca di Intel, e quello che aveva ruolato il Dragonide nella starter set.